Bentornati a Pillole 81 Oggi andremo a parlare del dirigente e del preposto Vi ricordate? Anche loro fanno parte dell'articolo 299 Quindi sono di fatto Nella definizione dell'articolo 2 Il dirigente è colui che organizza e vigila sulla loro altrui Il preposto è colui che sovraintende e vigila Quindi, al di là che io abbia o meno il contratto da dirigente Se io organizzo e vigilo sul lavoro altrui Per la sicurezza io divento in automatico dirigente Al contrario, se io invece sovraintendo e vigilo sul lavoro altrui Di conseguenza divento subito preposto Quindi sono io che decido cosa fanno degli altri lavoratori? Perfetto, divento dirigente alla sicurezza Con tutto quello che mi compete poi come obblighi E la stessa cosa se sono preposto Tutti mi chiedono se possono chiedere dei soldi aggiuntivi Perché sono dirigente e preposto da sicurezza La risposta mi disperse è no